Cominciamo dall'ariete. Astri e circostanze favorevoli vi aiuteranno e dovrete solo superare qualche momento di tensione con il partner o con i soci. La sorte quindi può farvi qualche bel regalo, ma non abbassate mai la guardia. Toro, il momento va sfruttato fino in fondo perché sono in arrivo occasioni ripetibili per la vostra vita privata e professionale. Incontri utili per il lavoro. Gemelli, fuggire alla realtà non è mai una buona idea. Meglio averla davanti per scoprire che alla fine non è così brutto come temevamo. Se vi metterete d'impegno potrete vedere dei risultati e risolvere anche questioni spinose. Cancro, splendida giornata per voi. Vi verranno offerte opportunità in campo professionale che dovrete cogliere al volo, ignorando pensieri e attrazioni d'altro tipo che vi farebbero solo perdere tempo. Leone, giornata sotto tono che si adatta male alla vostra esuberante sensualità, alla vostra insaziabile voglia di vivere senza lesinare sulle energie. Grande, grandissimo bisogno di libertà e dei vostri spazi. Vergine, un ottimo cielo promette occasioni fortunate. Vi sentite particolarmente seducenti e questo stato d'animo avrà piacevoli ripercussioni sulla vita di coppia. Non mancheranno opportunità in campo lavorativo. Bilancia, fate tesoro di tutto quello che riuscite a percepire con la cume che vi regalano le stelle e capirete meglio voi stessi e i vostri bisogni e poi vi sarà facile anche realizzarli. La vita sentimentale attraversa un bel periodo. Scorpione, mettete in conto qualche difficoltà oggi. Nel mirino degli astri ci sono i rapporti sentimentali. Non potete pretendere che il partner si dedichi interamente a voi, anima e corpo per 24 ore al giorno. Sagittario, il cielo di questa giornata vi mette nelle condizioni ideali per spingere il più possibile sul pedale dell'acceleratore e dimostrare quanto sapete essere produttivi se vi ci mettete. Capricorno, giornata positiva tutta da sfruttare. Le configurazioni planetarie della giornata riportano in auge comprensione e fantasia nella vita affettiva, specie in quella delle coppie di vecchia data e nel matrimonio. Acquario, in famiglia riceverete ampi apprezzamenti. Siete un solido punto di riferimento anche in ambito professionale. Difficile quando c'è un problema fare a meno della vostra abilità e della vostra acuta intelligenza. Pesci, saprete ottenere il massimo con il sorriso ma anche con la simpatia che vi aprirà molte porte rimaste finora chiuse. Un buon dialogo con il partner rialzerà le quotazioni del rapporto di coppia mentre un incontro inatteso movimenterà la serata dei single e dei più giovani. Grazie a tutti.